E' un bel formato fresco, una gelata. Alex, tu in questo momento potresti prendere il frullato, come si sottile di più è fatta. Non la capite la prima volta, penso che la capirà la seconda. Ma l'acqua mi è passata un po' la sigla, preferisco venire dopo il mare. Non so come mai, ma ho questa impressione che sia meglio. Grazie mille.